Oggi Affari Italiani a Roma per questo convegno nel quale Sandoz presenta questo nuovo prodotto e chiediamo al dottor Cervellati di parlarcene. Sandoz è un'azienda che fa parte del gruppo Novartis, è un'azienda che al suo interno ha numerose divisioni e attualmente sta sviluppando una divisione di prodotti OTC. Sì, seguendo una linea di tendenza di oggi che è quella di lavorare con prodotti probiotici ha sviluppato una nuova linea di integratori alimentari a base di probiotici con un concetto innovativo quello di avere un'alta concentrazione di probiotici e una varietà di ceppi all'interno dello stesso prodotto. Questo per garantire un maggiore recupero delle condizioni di benessere alterate da condizioni come la diarrea per esempio ad antibiotici o gli stati di affaticamento che sono tipici dello stress o dei cambiamenti di stagione e nello stesso tempo di dare supporto anche a condizioni come per esempio l'ipercolesterolemia con una linea dedicata di integratori abbinati alla monocolina. Flormidabil, questo è il nome della linea di prodotti, contiene 70 miliardi, è l'unico prodotto attualmente in commercio a contenere una concentrazione così alta, 70 miliardi di fermenti lattici vivi, fermenti lattici e bifidobatteri e 4, da 4 fino a 5 specie diverse di batteri al suo interno.